Buongiorno visitatori di Oslo Kauai. Questa è la proiezione del TG Kauai e siamo qui per annunciarvi l'inizio di nuovo concorso. Partecipare al concorso è semplicissimo. Basta inviare una fotografia della tua borsa con il suo contenuto benedicibile, come nell'esempio che state vedendo ora, e inviarla all'indirizzo mail contest.nsk.mail.com. Potete inviare fino ad un massimo una fotografia e una delle quali non deve superare volerla. Nel corso della mail dovrete indicare il vostro nome oppure il cliente con il quale potete essere insegnati nella biblioteca che comparirà sotto ogni borsa più grande. Le fotografie verranno caricate all'interno dell'articolo del corso. Inoltre verranno inserite anche nella nostra città dei miei tempi, dei quali comunque potete trovare pienamente. I premi che saranno impegnati sono scelte. I premi 3 verranno reciti dal Kauai Team in base al contenuto delle volte sul Kauai. Un premi invece varrà instratto a sorte tra tutti i partecipanti al concorso. L'ultimo premi, invece, varrà aspegnato dagli iscritti alla vostra fan page. Montare una fotografia molto semplice, fa cadere un po' le città. Invece i commenti che riceverà non saranno punteggiati. Solo i pollici inscriveranno come punteggi. Adesso passo la linea da Angela che vi mostrerò i nostri premi. Vai Angela! Ciao Angela! È giunto il momento di vedere insieme i premi. I premi che saranno consegnati ai vinci tuori scelti dal Kawaii Team sono come il primo premio una borsa a lupo. Secondo premio invece un paio di orefini con delle farfalle. Terzo premio una porta chiavi con una gaicia di legno. Invece il premio per il fortunato strato è una fin, ormai Pornano con il barossi rosa. E l'ultimo premio ma non ho un punto per importanza è il premio popolarità che è un collier con una farfalla rosa. Bene Angela, che vi passo la linea? Grazie Angela! Mi raccomando, per raggiungere tutto il regolamento andate sul nostro sito. Non solo Kawaii, senza cosa. Buona? Buona con tua te! Ti andalo qua tipo che valera schiaggiata. Erik Io ho curato! except qu mask l'altro piscina l'altro piscina l'altro piscina stiamo spettando il tempo la tua perché no, ho un dolore qui vai Angela faccio la piscina no, no, benissimo ma con crema ma con crema e va a metterla grazie